come va e bentornati sul mio canale come sempre vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità oggi parliamo di un vero e proprio fringe benefit lo so questo termine in inglese è un po difficile da capire ma ve lo spiego subito questi benefici vengono definiti benefit perché fanno parte del welfare aziendale che le aziende non erano direttamente ai dipendenti sotto forma di denaro ma sotto forma di beni e servizi più avanti nel video comunque si capisce meglio quello che sto dicendo il nostro governo ha introdotto il decreto aiuti bis ve lo ricordate tutti e ha dato la possibilità alle aziende di aiutare i propri dipendenti nel pagamento delle bollette di acqua luce e gas e ha aumentato l'importo dei benefici da 258 euro erotti fino a 600 euro quindi in definitiva le aziende potranno dare la possibilità ai propri dipendenti di pagare o farsi rimborsare le utenze io la trovo una cosa molto molto utile benefici tra l'altro che vorrei ricordarvi sono completamente esentasse cioè non si pagano le tasse sopra in tutto questo ci sono ben due vantaggi che adesso vi dico per il datore di lavoro si tratta di soldi deducibili che riducono l'imponibile fiscale quindi lo aiutano con le tasse e invece per il lavoratore sono somme non soggette a contribuzione e nemmeno al pagamento delle tasse il bonus completamente esentasse come vi ho detto può essere pagato direttamente dal datore di lavoro al fornitore di acqua luce o gas del dipendente oppure come rimborso in busta paga ovviamente previa esibizione di documentazione quindi non lo so copia della fattura da pagare questo significa che i datori di lavoro possono pagare oppure rimborsare i costi delle utenze domestiche per acqua luce e gas quindi ricapitolando non si tratta di un vero e proprio bonus in soldi cioè si sono soldi ma sotto un'altra forma ma è comunque considerato un buon vantaggio per i dipendenti perché aiuta gli aiuta proprio a contrastare l'aumento dell'energia e delle bollette con questo è tutto ti ringrazio per avermi guardato ti ricordo come sempre di iscriverti qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarei sempre aggiornato su tutte le prossime novità noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre e solo sull'unico canale originale di youtube il mio aspetto ciao grazie a tutti grazie a tutti